Benvenuti ad una nuova edizione del Tg7. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. In copertina il tragico incidente mortale avvenuto ieri sull'Appia. Ci occuperemo ancora dei furti che stanno attanagliando la città dei fondi. Sono stati eletti i nuovi vertici della Confcommercio di fondi, tra cui il presidente Enzo De Lucia. Vedremo insieme. Ascolteremo le parole dell'assessore di Montesambiaggio Gianmarco Pernarella sulla sua imminente partecipazione all'Assemblea regionale Anci Giovani Lazio. Passeremo ad un'ampia pagina sportiva con le dimissioni del mister dell'Unicusano e con tutti i risultati del calcio a 5. Ampio spazio anche alle Cinemavis Fondi Femminili che militano il campionato di Serie A. In chiusura ai nostri microfoni Giorgio Calcaterra, il grande campione che ha partecipato alla Corris Perlonga. Tutto questo e molto altro tra poco al Tg7. Bentornati. È Alessandro De Luca, 39enne di Montesambiaggio, la vittima di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sull'Appia lato Montesambiaggio, nel territorio di Fondi. L'uomo si trovava a bordo di una pecar, insieme a un indiano e a suo figlio di tre anni. Mentre il Monticellano è sceso per fare benzina, i due indiani sono rimasti a bordo del mezzo e sono stati travolti da una Mercedes. Il 39enne, preso in pieno, è morto sul colpo. Padre e figlio sono stati tempestivamente trasportati all'ospedale Fiorini di Terracina. Sul posto i carabinieri della locale tenenza guidati da Ivan Mastromanno e supportati dalla stradale e dal commissariato di polizia locale. Il bambino è ora ricoverato presso il reparto di pediatria all'ospedale di Fondi, dove rimarrà qualche giorno in osservazione. Mentre il padre è ancora ricoverato presso il Fiorini di Terracina, con fratture alle costole, alle gambe e al naso e punti di sutura in diverse parti del corpo. Il 36enne, al volante della Mercedes, è ricoverato in condizioni preoccupanti ma non in pericolo di vita. Poche ore prima, intorno alle ore 16, su via Appia a lato Itri, un centauro 38enne residente a Gaeta si è schiantato sull'asfalto in sella a una Ducati 1908. L'uomo, soccorso repentinamente dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo al Fiorini di Terracina. Fortunatamente il centauro non versa in gravi condizioni. Continuano i furti a fondi. Vittime stavolta sono due abitazioni, una nel centro storico, abitata da stranieri, e l'altra in località querce. I ladri hanno forzato gli ingressi e sono entrati nelle case, entrambe vuote al momento del ladrucinio. I malviventi hanno portato via oro e soldi contanti. Le vittime, rientrando in casa, hanno scoperto di essere state derubate e hanno avvisato la polizia locale che sta ora indagando sull'accaduto. Il Movimento 5 Stelle di fondi, mediante il portavoce Appio Antonelli, consigliere del Comune di fondi, ed insieme agli attivisti del Meetup e i Grillini fondani, hanno comunicato che verrà iniziata una raccolta firme da presentare in allegato ad una mozione per indurre il Consiglio Comunale a deliberare sul divieto del distacco dell'acqua per i cittadini economicamente disagiati, che sono morosi nei confronti di Acqua Latina. Questa iniziativa è stata presa per salvaguardare le fasce della popolazione fondana più in difficoltà e il Movimento 5 Stelle si farà carico di questo impegno, seguendo il buon esempio di altre amministrazioni che hanno proceduto in tal senso. Ultima, quella della città di Gaeta. Nei prossimi giorni sarà resa nota è la data del prossimo gazebo in piazza, che verrà organizzato per le raccolte firme relative all'iniziativa sulla gestione dell'acqua e per quella finalizzata alla richiesta di creazione di un'area cani sul territorio urbano. L'imprenditore Enzo De Lucia è il nuovo presidente dell'ASCOM territoriale di fondi, che ha preso il posto dello storico presidente uscente Vincenzo Mangione. Il cinquantenne imprenditore fondano è da sempre impegnato in ruoli gestionali nelle imprese familiari di vendita all'ingrosso e al dettaglio ed è attivo da anni nella Confcommercio. È stato infatti anche vicepresidente del Centro Commerciale Naturale di Fondi. L'assemblea elettiva è stata aperta da Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, provincia di Latina. Voglio salutare con affetto e stima, ha detto Acampora, il presidente Mangione, che per tanti anni ha guidato con dedizione e competenza l'ASCOM di fondi. Un uomo di grande esperienza, imprenditoriale e dedizione alla Confcommercio, un uomo a cui va il mio ringraziamento personale e di tutta la struttura. È fondamentale per il rilancio imprenditoriale anche di fondi, ha continuato il presidente Acampora, che ci sia un forte coinvolgimento degli imprenditori, una partecipazione attiva a tutte le iniziative della Confcommercio Imprese per l'Italia. Quindi una nuova ASCOM con un gruppo dirigente innovativo e motivato che operi in collaborazione stretta con la nostra struttura provinciale. È fondamentale e auspicabile. L'Assemblea degli Associati di Fondi, a cui erano presenti il vicepresidente vicario di Confcommercio provinciale di Latina Italo Di Cocco, il direttore generale della struttura Salvatore Di Cecca e l'amministratore Giovanni Sciscione, ha eletto il nuovo presidente dell'ASCOM. L'impegno mio, ha dichiarato il neopresidente De Lucia e del consiglio direttivo, sarà quello di dare un nuovo impulso al ruolo dell'ASCOM, un ruolo di aggregazione degli operatori e di rapporto propositivo e propulsivo con l'amministrazione comunale. Il sistema delle imprese fondano, ha concluso Di Lucia, tanto variegato e diversificato, ha bisogno di innovarsi e rilanciarsi. Opereremo in tal senso in strettissima relazione con la Confcommercio provinciale e offrendo agli associati attuali e potenziali i tanti servizi e progetti che la nostra struttura provinciale può offrire. Venerdì 26 febbraio, presso il Salone dei Piceni in piazza San Salvatore in Lauro a Roma, si svolgerà l'Assemblea regionale Anci Giovani Lazio, con il tema Giovani amministratori per l'Europa 2020, idee e progetti. La giornata si aprirà con i saluti del Sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, vicepresidente vicario Anci Lazio e proseguirà con gli interventi istituzionali a cura degli europarlamentari Silvia Costa, Fabio Massimo Castaldo e Antonio Tagliani, per un dibattito concentrato sui temi quali Europa Creativa, Horizon 2020 e Programma Cosme. E infine Programmazione Europa 2014-2020. A moderare sarà il giornalista Andrea Picardi, che presenterà anche il direttivo della consulta regionale dei giovani amministratori, del quale fa parte per la provincia di Latina l'assessore alla cultura di Montesambiaggio Gianmarco Pernarella, eletto nello scorso ottobre coordinatore regionale e vicepresidente provinciale. Abbiamo intervistato telefonicamente l'assessore Pernarella. Ascoltiamo. Come coordinatore e vicepresidente provinciale del Lanci Giovani vorrei concentrarmi nel mio intervento sull'Europa, su questa Europa 2015-2020 che secondo me deve contare di più in senso di solidarietà nei confronti dei comuni. Per ora, secondo il mio parere, è un'Europa che ha ordinato un rigore, che ha comandato e sinceramente non ha mai avuto pietà soprattutto per l'Italia, per i piccoli comuni che stanno subendo una povertà crescente, quindi un'Europa spietata a tutti gli effetti. Speriamo che, ecco, e si è costituita apposta questa consulta di giovani amministratori, che la nostra voce possa essere, diciamo, di influenza e che si cominci ad avere un'anima nel Parlamento europeo. Nel pomeriggio verranno illustrate le buone pratiche con temi attuali, tra i quali fondi plus e riqualificazione dei quartieri, a cura di Daniela Adebonis, assessore del Comune di Fondi. Pernarella ha parlato anche della Adebonis. Ascoltiamo. Si parlerà di Europa, un'Europa sempre più spietata nei confronti dei comuni. Secondo poi perché ci saranno interventi di europarlamentari che, diciamo, ci indirizzeranno non solo a noi giovani amministratori, ma a tutti i comuni della regione Lazio a come accedere a finanziamenti europei. Infatti, diciamo, mi ritengo fortunato, non come assessore, ma come vicepresidente provinciale dell'Anci Lazio Giovane, partecipare ad avere la collaborazione di Daniela Adebonis, che è assessore del Comune di Fondi, che in quella seduta parlerà, diciamo, di fondi plus. fondi, diciamo, che serviranno anche alla riqualificazione dei quartieri. L'idea, ovviamente, che proporrò in quell'Assemblea è quella proprio di organizzare dei gruppi di esperti per accedere ai fondi europei, anche perché ormai le regioni sono disastrate, le province ancora di più, quindi è l'unica speranza per i comuni, piccoli, grandi che siano, per le imprese, è solo l'Europa. E soprattutto è un'Europa che ad oggi pone delle condizioni per far sì che i comuni non riescano ad accedere ai fondi europei. Passiamo ora ad un'ampia pagina sportiva. L'Unicusano Fondi ha reso noto ieri, tramite comunicato ufficiale, le dimissioni di mister Sandro Pochesci. Tutta la società, e più nello specifico il patron Bandecchi, Augar augurano all'ormai ex allenatore rosso-blu di risolvere ogni tipo di problematica relativa al caso, auspicandogli un futuro più che roseo e proficuo. Il mister romano era in forza all'unicusano da quasi due anni, nei quali non è probabilmente mai riuscito ad entrare appieno nei cuori dei tanti tifosi. Pochesci lascia una squadra al quinto posto, lontana otto punti dalla prima piazza, inseguita per buona parte della stagione, ed una rosa completa e competitiva, composta da giocatori di spessore e di qualità. Si pensa già al suo successore, e nello specifico, voci di corridoio, lasciano intendere la possibilità che la vacante panchina fondana possa essere riempita da un allenatore con un trascorso addirittura in Serie A. Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di calcio A5 Serie A femminile, le atlete delle Cinema Visfondi sono state battute in casa, con il risultato di 3 a 4, dalle ragazze della Virtus Ciampino. Vediamo insieme gli highlights della gara. Sconfitta è meritata per le ragazze delle Cinema Visfondi, che per la tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie A di calcio A5 femminile, hanno ricevuto in casa la Virtus Ciampino. Gara caratterizzata da un primo tempo dove hanno dominato, almeno dai gol, le Romani, che al quarto minuto rubano una palla a metà campo e vanno in rete con la De Luca, per il provvisorio 1 al 6. Qualche minuto più tardi il pareggio delle Fondane è filmato magistralmente dal vicecapitano Di Mascolo. Ma al quattordicesimo, con una perfetta triangolazione, la Virtus Ciampino si riporta in vantaggio. Poco prima del riposo arriva anche il terzo gol. Il secondo tempo si apre con un errore dal dischetto della Uveces, che si fa perdonare subito dopo con un'azione solitaria finalizzata con il gol che accorcia le distanze. Poco più tardi è sempre lei che pareggia il punteggio con un tiro libero. Sul 3 a 3 le Fondane hanno la possibilità di andare in vantaggio, ma il capitano con Antuono sciupa un altro tiro alle 10 metri. La legge del calcio è crudele e a gol mancato ne consegue un capovolgimento di fronte, con il quale le Romane ne approfittano per riportarsi in vantaggio proprio quell'ennesimo calcio da fermo della partita. Risultato finale di 4 a 3 per la Virtus Ciampino. Ora per le ragazze di Cibelli, obiettivo puntato sulla trasfetta romana di domenica prossima contro la finisce. Sentiamo adesso le impressioni a caldo nel post partita di mister Emilio Cibelli e di Ilaria Palomba, entrambi intervistati per noi da Antonio Di Trento. Grazie. 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 di casa provano a prendere in mano le redini del gioco, sfiorando il gol in tre circostanze, prima con Di Martino per due volte e dopo con Teseo. A quattro minuti dalla fine del primo tempo i fondani si portano in vantaggio con la rete di Capitan Passannante, che realizza così il suo decimo gol in campionato. Al cinquantesimo dalla ripresa arriva la doppietta personale del solito Passannante, che sigla il gol del 2-0. Negli ultimi istanti del match c'è spazio anche per la terza marcatura dei padroni di casa, messa a segno da Di Martino. Finisce 3-0 per i ragazzi delle Cinemavi Sfondi, che salgono a quota 38 punti, collocandosi al terzo posto a meno 2 dalla capolista Vintorno. Nella ventesima giornata della serie D, girone B, il derby tra il Formia 1905 Calcio e Rialfondi finisce in parità, con il risultato finale di 4-4. Il primo tempo vede come protagonisti i rosso-blu, che vanno in gol per ben due volte con Anton Giovanni e Curcio. Il Formia reagisce e va in rete con Di Tucci, che porta i formiani sull'1-2. Nella ripresa i biancazzurri si portano avanti con la doppietta del solito Lombardi. Il Real Fondi risponde con le marcature di Peppe e Sacchetti, per poi essere raggiunti con il gol del pari all'ultimo minuto da Di Guida. Un pari che colloca il Real Fondi al nono posto con 27 punti e il Formia 1905 Calcio al settimo posto a quota 29. Sempre nel girone B della serie D, l'Atletico Sperlonga, impegnato in trasferta contro lo United Latina Futsal, perde per 6 reti a 5. La squadra di Mister Rosati rimane sempre al secondo posto con 46 punti, mentre lo United sale al quinto posto a quota 33. Concludiamo con la settima edizione della gara podistica Corri Sperlonga, che ha avuto luogo a Sperlonga tra le vie cittadine. All'evento hanno risposto in molti e tante sono state le iscrizioni, che hanno superato le cifre degli scorsi anni. Ai microfoni del nostro Antonio Di Trento, Giorgio Calcaterra, il grande campione che è stato nuovamente protagonista della manifestazione. Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo, a Sperlonga per l'ennesima volta perché ormai sei legato a questa gara. Sì, una gara devo dire che mi ha conquistato, sia per il percorso che è veramente bello, sia per l'accoglienza, proprio per la città che è un gioiellino, per tutto insomma. Quindi questa credo sia la mia quarta partecipazione. Da quando l'ho cominciato a fare non l'ho mai lasciata, tranne un anno ma per infortunio. Quindi devo dire dieci e lote a questa gara che è stata, ha fatto tantissimi punti di vista stupenda e poi non ultimo oggi anche la giornata è stata bella, quindi bene, bene. Il tuo futuro atletico? Io adesso, vabbè, le mie distanze sono un po' più lunghe di questa qua, dieci chilometri sono bellissimi, però la mia specialità è la cento chilometri. La prossima cento chilometri dovrei farla a maggio e poi i mondiali che ancora non ho la data precisa, comunque sempre quest'anno. Poi farò un'altra gara alla quale tengo molto, che è la Win4Life World Run, che per me è un'ultramaratona, l'anno scorso corsi 78 chilometri, è una gara un po' particolare dove la macchina ti insegue e quando ti raggiunge ti devi fermare. È un format innovativo. Adesso a breve la Roma Ostia che è una 21 chilometri ma che è affascinantissima perché poi ci porta da Roma al mare e via via poi quello che capita. Per questa edizione è tutto. Vi ricordiamo che per suggerimenti e segnalazioni potete contattarci all'indirizzo e-mail redazione-tv-canale7.it o sulla nostra pagina Facebook Canale7 e potete continuare a seguirci sul nostro sito tv-canale7.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sul nostro canale.